Presidente Massimo II, i nostri microfoni, una giornata direi storta per la prova c'era. Sì, credo che il commento giusto sia quello, è una giornata storta, credo irripetibile, perché tutti gli undici scesi in campo sono stati protagonisti di una brutta prestazione, chi più chi meno, per carità, ma insomma, complessivamente la prestazione di squadra è stata insufficiente. Potrà sembrare un po' paradossale, ma io dico il punto positivo da cui ripartire è proprio questo, abbiamo fatto tutti male e non credo che sia ripetibile una partita in cui tutti facciamo male, e quindi andiamo, nonostante tutto, con grande fiducia a Spezia prima e a Benevento poi, in tre giorni, due trasferte difficilissime, ma dove sono sicuro che faremo bene. Una partita, come giustamente diceva il Presidente, strana, a mio avviso però Povercelli, sull'1-0 l'eccessiva voglia di voler far bene forse ha un po' tradito la squadra, forse era meglio essere un po' più compassati. Diciamo che sì, questo è un gruppo che a partire dall'allenatore ha una grande voglia di fare bene, ha una grande voglia di dimostrare, di mettere in evidenza i frutti del lavoro che è stato fatto in sede di preparazione, che è un lavoro importante. E quindi può darsi anche se si sia fatta trasportare da un'eccessiva voglia di fare, magari una tattica più attendista, un po' più di attenzione avrebbe potuto. Però, insomma, nel DNA di questa squadra c'è voglia di far bene, c'è voglia di costruire gioco e, come dire, ci mancherebbe altro che per una partita storta dobbiamo tarpare le aree questo gruppo. Questo è un gruppo, io ripeto, sono convinto che sia un ottimo gruppo. Questa partita è una parentesi e abbiamo bisogno di dargli forza e coraggio per due partite in trasferta importanti, dove, ripeto, sono certo che la prova farà bene. Un grosso bagno di multà in vista del futuro. Un altro aspetto di questa partita è quello che ha sottolineato prima in sala stampa e il fatto di queste contestazioni a volte premature. Ma io credo che, voglio dire, che io debba sentire a partire dal decimo minuto del primo tempo una piccola parte, perché poi io ringrazio la gran parte dei tifosi della Provercelli che hanno sostenuto la squadra per 90 minuti anche di fronte a una prestazione non buona come quella di oggi e questo vorrei che fosse molto chiaro. Poi, però, che io debba sentire dei nostri tifosi insultare dei nostri giocatori dopo dieci minuti del primo tempo, ecco, credo che perché questo è, erano sotto la mia postazione. Non è il modo, credo, di sostenere una squadra che fa una categoria al di sopra delle proprie possibilità, perché forse qualcuno si è scordato che stiamo facendo una categoria al di sopra delle nostre possibilità, al di sopra di quello che esprime questa città. E io credo che noi abbiamo bisogno per rimanere in questa categoria dell'appoggio di tutti, da chi scrive in qualsiasi situazione, a chi legge, a chi scrive sui social media, a chi fa il tifo. Se questo c'è, bene. Diversamente faremo anche delle riflessioni, perché io voglio dire, di venire a vedere delle partite dopo i sacrifici che tutti quanti facciamo e sentire insultare i giocatori di 12 minuti, francamente non è il mio genere e quindi se continua così, alla fine dell'anno faremo delle valutazioni.